Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo CarTago Compact Line 141. Cosa c'ha di caratteristiche? È che è veramente in competizione con le dimensioni di un van e però l'abitabilità, l'eccezionale abitabilità di un motorhome. Appena 12 cm di larghezza in più di un van e appena 30 cm in più. È un lungo 6,65 cm. Cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito dove ci saranno tutte le caratteristiche del camper. Gli optional compresi, dimensioni, prezzo di listino per equipararlo agli altri camper ma soprattutto prezzo chiave in mano che vi farà ben comprendere la possibilità d'acquisto. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati ai nostri video. Questo camper, appena un camper appena più lungo potete vedere il video che ho fatto io con mia moglie Nicoletta nel Chianti quindi capire la fattibilità del viaggio. Questo è il grandissimo vano garage. Pensate 6,65 cm. Quante cose di lunghezza, quante cose potete inserire in questo garage. Qui sotto le dimensioni. Qui lo sportello laterale. Questo è montato sul telaio alco quindi c'ha il doppio pavimento guardate la quantità di cose che potete mettere in questo doppio pavimento quindi metterci le cose inverno estate è sempre pronto il camper. Poi come vedete gli sportelli non si vedono le cerniere sono tutti belli lisci e ora andiamo al suo interno un bello sportello finestra poi qua l'apertura che si accede dall'interno al gavone qua lo sportello che per metterci le scarpe quando entriamo mettiamo le scarpe quindi la cosa migliore è stare scalzi sul camper è un camper da 6,60 m guardate questa zona giorno una zona giorno con un tavolo molto grande che si muove, gira quindi si adatta a tutte le possibilità delle persone che sono sopra guardate le attenzioni contenitori, finiture guardate questo bel sottofondo con che attenzione è stato prodotto poi la zona giorno la possibilità di avere uno, due, tre, quattro, cinque e anche su questo piccolo seduta guardate il sesto ci sta volentieri quindi per fare una chiacchierata o un aperitivo è ottimale poi vi faccio vedere la facilità con cui si fa la zona il letto che scende e poi sta molto ben stabile come vedete non si muove va fino in fondo quindi è un letto enorme per due persone e poi non sormonta la zona giorno per cui essere in quattro vuol dire avere tranquillamente due ambienti più la zona giorno libera alcuni mi hanno chiesto ma i pesi? questo è sempre stato il compact ampiamente sui pesi potete caricare cosa vi pare è un camper che è veramente leggero compatto guardate la finitura dei particolari sia del mobilio che della finitura una bellissima finitura molto elegante ma soprattutto molto funzionale proprio sulla fascia posteriore e anche la seduta sulla gamba sono veramente delle poltrone molto comode qua il portatelevisore e qua un bel contenitore pensile le caratteristiche del motorhome cartago prima di tutto ha un parabrezza più basso per cui la guida è veramente facile e si controlla la strada guardate il mio video che ve lo faccio vedere attentamente poi essendo un compact essendo due e dodici lo sportello è veramente a filo spalla blocco cucina tre fuochi un lavello questo carino è il porta cose poi vedete è diviso in due e anche ha dei feltrini per far sì che si blocchi e non faccia rumore poi il pensile porta macchietta e caffè oppure anche altre cose come vedete si allunga e è comodo poi un altro bel pensile qua cassettiera altra cassettiera poi altri due cassettiere guardate quanti contenitori e poi ancora altri due cassettiere con il porta immondizia differenziata sicuramente essendo due e dodici il blocco cucina è un po' più stretto ma come vedete è funzionale e anche il passaggio è veramente molto funzionale frigorifero frigorifero con il congelatore questa è l'apertura quando si è in cucina ma se siete a letto e volete bervi qualcosa di fresco l'apertura posteriore vi permette di accedere facilmente al frigorifero andiamo a vedere la parte notte questo è un classico doppio singolo oppure diventa allungando un matrimoniale per traverso vedete i pensili con che cura e attenzione ma anche funzionalità perché è la funzionalità che porta a far sì che il cartago e soprattutto questo cartago con queste dimensioni abbia un suo grande vantaggio il letto come vedete è un bellissimo letto due belle finestre destra sinistra e l'oblò per cosa? per vedere le stelle o la mattina il bel sole gli scalini sono contenitori uno e uno due e poi il sottoletto sono l'armadio qui si può accedere da sopra o di lato e anche sulla parte sinistra si può accedere lo vedete facilitato sia di sopra che di lato qui ci potete mettere anche i cappotti come vedete l'altezza è veramente abbondante le doghe per farci degli ottimi sogni il bagno il bagno si apre quindi divide la zona notte alla zona giorno che può essere sia anche come spogliatoio vedete ho da spogliarmi e poi andare a fare il bagno oppure mi vesto e poi vado a fare colazione senza dover chiudere tutto il campo il water è questa posizione molto funzionale sia quando è chiuso che se volete maggior privacy è comodo anche nella funzionalità ma anche se è aperto è molto funzionale poi cosa c'è c'ha questa parete che girando e questo c'ha per non bagnare il water e guardate che grande eccomi qua c'ha l'oblò quindi i fumi vanno su e quindi una bellissima doccia funzionale e comoda pensate che è 6,60 m poi il lavandino vedete qui è comodo perché molto spesso fare il bidet nel camper è un problema invece guardate è funzionale anche per il bidet poi un contenitore e un altro contenitore sotto se siete arrivati a questo punto sicuramente vi è piaciuto vi è piaciuto e chiamateci venite a vederlo perché a parlare con noi vi possiamo dare i nostri consigli per poterlo meglio abitare e poter scegliere di acquistarlo come sempre con gli ottimi prezzi e servizi caravambaci ciao ciao